E' la settimana che porta al ritiro di Palena, ma il mercato in entrata del Pescara deve ancora decollare. Nelle prossime ore si attendono ulteriori ufficialità per consegnare ad Auteri una parte di rosa rinnovata e iniziare così il lavoro in vista della prossima stagione. Ad oggi l'unica operazione ufficiale è la firma del possente centravanti Michael De Marchi, arrivato da Svincolato dopo l'ultima stagione alla Virtus Verona, peraltro condita da un paio di infortuni, uno serio alla spalla che gli ha fatto saltare cinque mesi di stagione. A breve si attendono altre firme, intanto un ritorno, quello del gioiellino Marco Pompetti, centrocampista classe 2000, cresciuto nelle giovanili biancazzurre, prima della cessione all'Inter nell'estate 2017. Dopo aver indossato le maglie di Pisa e Cavese, oltre che della primavera nerazzurra, Pompetti è vicino al ritorno in prestito dal club nerazzurro. Pescara e Inter sono al lavoro per trovare la quadra. Pompetti nasce come regista di un centrocampo a tre, in molti lo vedono come l'erede di Marco Verratti, ma nello staff tecnico biancazzurro c'è la convinzione di poterlo impiegare con efficacia anche nel centrocampo a due, contemplato nel 3-4-3 di Auteri. Pescara anche vicinissimo all'esterno destro, classe 98 Davide Zappella, di proprietà dell'Empoli, da dove arriverebbe in prestito. 16 presenze nella seconda parte di stagione a Cesena, 30 nelle piacenza del DS Matteassi, nella stagione condizionata dal Covid. E poi Julian Ijanes, il dimensore argentino ex Avellino che dovrebbe arrivare dalla Fiorentina in un'operazione dove può fare il percorso inverso il primavera biancazzurro a San Sec. Frenata invece per Gianmarco Ingrosso del Pisa, anche se l'operazione può ancora farsi. Mercato che decolerà se e quando il Pescara farà dei colpi di livello. Eugenio Dursi del Napoli ed Ettore Giozzi del Monza sono i principali obiettivi per l'attacco, ma le trattative non sono semplici e la famiglia dell'Aurentis vuole anche verificare quale girone farà il Pescara prima di poter cedere Dursi ad una potenziale avversaria del Bari. Sugli Ozzi c'è anche il Modena che ha già bruciato il Delfino su un altro attaccante, Marotta. Così come il mercato potrà decollare in caso di alcune uscite, ma questo è un tasto dolente. La società è al lavoro ma le cessioni dei contratti più onerosi sono complicate. Giovedì intanto scatta il ritiro di Palena preceduto dalle visite mediche per tutti i convocati biancazzurri.